Tiene, un ragazzo di 17 anni è residente in città e è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era stato intercettato dagli agenti di polizia locale nel parco Aldomoro mentre tentava di disfarsi di un sacchetto con 11 dosi di hashish. Sul degrado della zona infatti erano giunti ai poliziotti numerose segnalazioni dei residenti. In compagnia del ragazzo altri quattro minorenni che hanno tentato di fuggire ma alla fine sono stati identificati. A seguito di una perquisizione personale il 17enne che aveva tentato di seppellire il sacchetto con le dosi è stato trovato in possesso di ulteriori 24 involucri di hashish di un bilancino di precisione e di 95 euro ritenuti provento dello spaccio.